Nella vita ad ognuna di noi c'è un uomo che parla d'amore, un uomo che porta dolore, un uomo egoista e bugiardo, un uomo che viene e ti incansa, un uomo che ti fa sognare, un uomo che mentre tu sogni ti fotte e poi se ne va. Non è più tempo di papà Natale gioia, non ti basta la tua età di stare in un casino qua a fare la troia, un uomo egoista e bugiardo, un uomo un poco di dolce, un uomo e poi tanto d'amaro, un uomo costa caro, costa caro. Un cliente commendatore si sente male e Madame Aida si preoccupa moltissimo perché si accorge che quel signore è in agonia. E allora bisogna liberarsene più presto, fa chiamare Tonin e gli offre uno strano baratto. Se lui porterà fuori dalla maison questo signore e lo lascerà qui dietro al foro, lei poi concederà quei famosi due giorni di vacanza a Tripolina. Arriva Salomè con gli occhi di fuori, il cugino non deve fare queste cose, è pericoloso, seguita a dirgli, in realtà cerca di ricordargli la responsabilità dell'atto che deve compiere. Ma Tonin non sente ragioni e decide di farla questa pazzia. E allora Salomè l'accompagna. Grazie. Grazie.